Ed eccoci dunque a parlare dopo Peace of Mind del 1983 del mitologico Powerslave del 1984, l'album con cui gli Iron Maiden fecero definitivamente il botto, soprattutto in America, e iniziarono una lunga lunghissima tournée che è stata immortalata nell'altrettanto mitologico Live After Death, uno di quei dischi dal vivo che tutti i metallari devono avere e devono conoscere a mena dito. Powerslave non è solo uno dei migliori dischi degli Iron Maiden, ma è uno dei migliori dischi della musica metal di ogni tempo, infinita fonte di ispirazione per centinaia di gruppi. È un disco che si presenta in maniera pazzesca, sin dalla copertina, con Eddie, la mascotta del gruppo, declinato in versione egizia, e quindi mummia, e quindi sfinge, con tutto un artwork nel booklet dedicato all'antico Egitto, con i membri del gruppo attorniati da sarcofaghi e geroglifici egizi. In questo caso l'artista Derek Riggs, che ha creato la copertina di Powerslave, si è letteralmente superato. Con Powerslave e gli Iron Maiden portano alla perfezione quel sound che già aveva cominciato a vedersi in The Number of the Beast e soprattutto su Peace of Mind. Ecco, potremmo dire che Powerslave è un Peace of Mind all'ennesima potenza, e quindi fatto di una voce altissima e squillante da parte di Bruce Dickinson, un cantante che anche a livelli altissimi riesce a dare un timbro assolutamente particolare a quello che canta, il basso galoppante di Steve Harris e i mitici duelli di chitarra tra Adrian Smith e Dave Murray, che qui raggiungono livelli di assoluta perfezione. E non è possibile spiegare che cosa significhi Powerslave all'interno della mia carriera di ascoltatore, ma anche all'interno della mia vita. Credo di posizionarlo sul podio, al terzo posto nell'intera discografia della band inglese, dietro solo all'accoppiata Samurai in Time e Seven Song of Seven Song. Possiamo stare tutti qui a disquisire sul valore di questo disco all'interno della discografia degli Iron Maiden. C'è chi lo mette dal primo posto, c'è chi lo mette dal secondo. Insomma, la cosa che mi colpisce sempre di più è che gli Iron Maiden sono riusciti a partorire sette dischi, uno più bello dell'altro, a partire dal primo omonimo Iron Maiden, per arrivare a Seven Song of Seven Song. Un periodo irripetibile per chiunque gli Iron Maiden erano al top della loro attività di musicisti, ma soprattutto della loro creatività. Creare una serie di capolavori del genere è una cosa assolutamente impossibile e irripetibile per chiunque, anche al giorno d'oggi, soprattutto al giorno d'oggi, quando la musica è un'altra cosa, è definitivamente cambiata, non c'entra più con quegli anni mitici. Eppure, se c'è una cosa che mi ha sempre colpito, è che di quegli anni gli stessi diretti interessati, cioè i membri degli Iron Maiden, non portano con sé un gran bel ricordo. Anzi, lo stesso titolo del disco, Power Slave, non è solo legato alla mitologia egizia e quindi alla presenza del faraone, quello che si racconterà nella title track, ma è legato soprattutto all'idea del music business e del modello album tour, album tour, album tour, che gli Iron Maiden dovevano rispettare, perché così funzionava il mondo all'epoca. E andando avanti così, i vari membri degli Iron Maiden ammettono di essere usciti di testa, vivevano un periodo molto difficile, costantemente stressati, sotto pressione. E quindi quegli anni che io, nella mia ingenuità, ho sempre pensato come anni mitici, in cui tutti erano amici e in cui la creatività era mille, continuavano a comporre canzoni, si divertivano, suonavano, proprio come io avrei voluto che fosse. Ecco, in realtà quegli anni non erano affatto mitici. E anzi, sono stati un incubo, soprattutto per Bruce Dickinson. Tutte queste cose si leggono nella sua autobiografia. E per questo la sua autobiografia mi ha in qualche modo deluso, perché mi sono reso conto che la realtà da me immaginata era del tutto un'altra cosa rispetto alla realtà fattuale. Comporre dischi, cercare di vendere sempre più dischi, partecipare a tour interminabili sempre più lunghi, vivere sul tour bus, girare gli alberghi. Beh, era un meccanismo dalle conseguenze fisiche e mentali devastanti, in grado di stritolare chiunque. L'album comincia con una doppietta formidabile, costituita da Ace is Ige e Two Minutes to Midnight. Sfido chiunque a trovare un disco che comincia in questo modo. Ace is Ige, pezzo dedicato alle imprese aerei dei bombardieri che risposero nei cieli di Londra e dell'Inghilterra al blitz dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e che nella sua versione video e dal vivo comincia con le parole di Winston Churchill, quelle famose, non ci arrendremo mai. Ed è una canzone che non solo vede un Bruce Dickinson volare veramente altissimo, tanto quanto gli asse aerei di cui si parla all'interno del testo, ma che vede una sezione di assoli di Murray e Smith assolutamente fenomenale. Mi hanno sempre fatto venire in mente le virate degli aerei nel cielo. E poi Two Minutes to Midnight, un altro pezzo incredibile mitologico che non è più uscito dalle scalette dei concerti del vivo degli Iron Maiden. E dopo questi due pezzi arriva una strumentale, quando ancora nei dischi c'erano le strumentali Lost for Words Big Orra, che molti disprezzano, ma che invece a me è sempre piaciuta tantissimo. È la strumentale degli Iron Maiden che preferisco all'interno di tutta la loro discografia. Mi ha sempre affascinato tantissimo, non l'ho mai schippata. Poi ci sono due pezzi, uno tirato e uno un po' più complesso, come Flash of the Blade, che appare anche nel film Fenomena di Dario Argento, e The Duellists, dedicati l'uno alla scherma e l'altro all'ossessione del duello. Sono due bei pezzi, anche se anche in questo caso c'è qualcuno che dice che sono dei pezzi minori. Ecco, forse il pezzo minore è quello che apre il lato B del disco, Back in the Village, che si rifà di fatto alla canzone The Prisoner, ispirata all'omonima serie televisiva con Patrick McGowan, che è un buon pezzo, anche se dovessi decidere quale scartare all'interno del disco, forse Back in the Village è quello che mi ha sempre convinto di Mino. E poi passiamo al pezzo forte dell'album, cioè il finale, la title track Power Slave, che è introdotta da questa risata che dà inizio a uno dei pezzi più incredibili e fenomenali della carriera degli Iron Man, per non dire di tutto il metal di ogni tempo. La canzone è dedicata all'ossessione di un faraone nei confronti dell'immortalità, nella quale il faraone si chiede perché debba morire lui che è un dio. Un Bruce Dickinson ispiratissimo, ma ispiratissima è tutta la band. Forse l'assolo che c'è all'interno di questo pezzo è uno di quelli che ho ascoltato di più nella mia vita e che continuano ad ascoltare in preda all'adorazione più totale. Mi chiedo ancora come sia stato possibile concepire una sezione strumentale del genere. E poi si arriva al gran finale, The Rime of the Ancient Mariner, 13 minuti di pura epicità, di Iron Maiden all'ennesima potenza, uno di quei pezzi mitologici che ha portato chiunque a voler saperne di più sulla fonte di ispirazione della canzone stessa, e cioè la ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge, un poema in versi che narra la storia di un marinaio che ha partecipato a un crimine a bordo di una nave e che è stato salvato per portare al mondo la sua dolorosa esperienza e per rendere più sagge le persone. Un pezzo che vede il viaggio per mare, la maledizione dell'Albatros, la presenza della morte, la sete, con un interludio narrato che prende le parole direttamente dal poema di Coleridge con tanto di ghigno malvagio e di scricchioli dell'imbarcazione. Una canzone iconica per gli Iron Maiden, per l'intero movimento heavy metal e per le nostre vite. Ancora oggi Powerslave suona come un capolavoro a livello di suoni, a livello di testi, a livello di interpretazione, a livello di esecuzione dei singoli pezzi da parte di ogni membro della band. E forse è proprio per l'amore che provo nei confronti di questi Iron Maiden, quelli di Peace of Mind, quelli di Powerslave, poi quelli di Summer in Time e Seven Song, che mi ha portato purtroppo a tornare rapidamente sulla Terra e a disprezzare tutto ciò che è venuto da Seven Song in poi. Io non ho mai fatto mistero di non apprezzare quello che gli Iron Maiden hanno prodotto in seguito, quando magari sono stati anche molto più felici dal punto di vista umano e hanno prodotto la musica che volevano produrre loro, ma che a me non è mai andata giù fino in fondo. Mi permetto solo di dire che se qualcuno dice che A Matter of Life and Death e Final Frontier sono dei capolavori a cui bisogna mettere 8, 9 come votazione, beh, allora come minimo a Powerslave dovremmo dare 100 su 10 e comunque sempre up the irons.